Oggi sono tornato su Gary's Mod per trollare la mia migliore amica, ossia Leah, nei peggiori modi possibili. Tra l'altro è la prima volta che gioca a Gary's Mod, vi rendete conto? Dopo averla fatta praticamente impazzire, alla fine mi trasformerò negli animatronics giganti di Five Nights at Freddy's che scompaiono e non capirà più nulla ragazzi, voi non avete idea, di quello che è successo in questo video e soprattutto del troll a sorpresa che vi ho lasciato alla fine. Siete curiosi di scoprire di cosa sto parlando e soprattutto di vedere tutti i troll che le ho fatto compresi gli animatronics di FNAF? Restate con noi fino alla fine per scoprirlo. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace che fa sempre piacere. Buona visione! Amici telespettamici, oggi ho portato Lia, ossia la mia migliore amica, su Gmod per la prima volta e ovviamente le insegnerò un po' a giocare. Sei pronta? Non vedo l'ora di divertirmi un po'. Che bello, non vedevo l'ora. Che poi che skin hai messo? Cos'è Vanessa? È bellissima, sono Vanessa! Non ti piaccio? Ma cosa è bellissima? È il problema è che è un po' ambigua, cioè ha uno sguardo abbastanza perso nel vuoto però che belli occhi verdi che hai, come Shrek più o meno. Sono un po' più carina di Shrek. Oddio, ho i miei dubbi, però vabbè. Cos'è sta cosa? Non ti avvicinare, non ti avvicinare e te ne ammirino. Non ti posso rubare la telecamera. Perché mi devi rubare la telecamera? No. Vieni qua, vieni qua. Con la pistola di Fortnite lascia subito la telecamera e io te la faccio scomparire, scema. No, dove vada? E adesso? Vai, 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 prendi i proiettili al volo. No, io sono immortale, sono immortale, sono immortale. Sì, sì, sei immortale. Un po' sporca ma immortale. Non ti devi avvicinare. Mi metti ansia, mi metti ansia, non ti avvicinare. Non vedo bene, mi devo avvicinare, non ci vedo. Vedi meglio, la mia torcia sta fluttuando. Cos'è questo? Ops. No, eh, no, eh. Non iniziamo così anche con te perché altrimenti impazzisco. Sono respawnato e spero che non mi abbia visto che cosa sta facendo. Io non ho parole, mi sono anche mutato su Discord per dirvi ovviamente che io l'ho portata su Gmod come scusa della sua prima volta per insegnarle a giocare. E invece no, la trolleremo malissimo e alla fine ci trasformeremo negli animatronics di FNAF super realistici e terrorizzanti che scompaiono e la faremo impazzire perché scompariremo, riappariremo, la uccideremo e impazzirà. Totalmente si sta lanciando delle granate in testa. Io ragazzi non ho parole, andiamola a salvare perché altrimenti mi scoppia davanti. Lia, eccomi, scusa, stavo respawnando. Allora, adesso ti faccio fare un piccolo giro turistico della città. Prima però respawna mi dovevo vendicare, bravissima. Chissamente. Ti ho preparato anche la macchina del colore che ti piace. Guarda qua che bello. Oh, che bella. Stai buona con quella macchina? Stai buona con quella macchina? Ridammi la macchina? Eh vabbè, ci sto facendo amicizia, vai via, hai detto. Ridammi la macchina, vai via, vai via, vai via un regalo. Ferma, ferma, che l'ho comprata con gli ultimi soldi che avevo. Stai buona, Lia, Lia, devi stare buona. No, ho preso la pistola per sbagli. Ma non sto facendo niente, ho una granata in mano. Me l'hai baggata, me l'hai baggata. Io non c'entro niente. E qua ti spacco la macchina in testa. Vieni qua, vieni qua, non mi tirare le granate. Maledetta, non mi tirare le granate ti ho detto. Ti sfondo la testa con la macchina. Che fa che mi è esploso? Ok, brava, restituissimela. Oddio, 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 sei stato per casa nel muro. Lia, va bene, va bene, metti la giù, ti giuro che ti regalo. La giù, la giù, la giù, la giù. Ok, perfetto, con calma, vieni, ti prego, sali. Ma perché è un po' in pendenza sta macchina? Vieni, vieni, devi premere E per salire. E, E, premi E, E, premi E, 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 premi E. Ma la posso rubare? No, non me la devi rubare così, devi premere E. Lia, la E, la E. Non entra! Non è possibile che non entra. Non entra, è per una persona sola. Madonna, io non ho parole, ma c'ha dodici posti, vedi? Vedi che ti entra. No, perché va così piano? Perché mi sa che si è baggata? Aspetta, resta lì, vai! Oh, mamma mia, oh, mamma mia. Sto per vomitare, sto per vomitare. Ma è impazzita la macchina, solo con te succedono sti bug. Sto per vomitare. Aiuto, sì, esci, esci dalla macchina, esci dalla macchina. Ne prendiamo una diversa, ok? Ti ho detto di uscire dalla macchina. Eh, devo fare un test. Perché va, guarda, guarda, guarda come drifto. Che cosa stai dicendo? Guarda come drifto, guarda come drifto. Sì, sì, ma non mi driftare in bocca, però. Eviterò. No, volevo vedere se ti potevo investire, però mi raffinò. Adesso gli diamo una piccola sistematica. C'è stato un piccolissimo errore di calcolo. Non doveva finire così. E io adesso ti rubo la macchina e me ne vado. E me ne vado. Ah! Madonna, che botta. Era Shrek. Shrek, 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 amore, sì. Vai, me ne vado io con la mia macchina. Tu seguimi. Aspetta, aspetta, aspetta. Vengo in retromarcia. No, no, sei buona. Non ti fa entrare proprio nella macchina. Vieni, vieni, non ti fa proprio entrare nella macchina. Prova, prova a entrare. Aspetta, aspetta, fammi lì. Vai, vai, devi premere. È un solo e semplice tasto. Eh, non lo fa. Prima me l'ha fatto subito davanti. Va bene, va bene. Vabbè, prendo il piede di porco. Ma che piede di porco. No, sicuramente. Sì, sì, dai, cambiamo macchina. Oh, oh, sono entrata. Ma è immortale la macchina. Come può sì? Ma lo vedi che è per una... La macchina sì, tu no. Mi serve assolutamente una macchina all'istante. C'è un macello. Eh, senti, posso prenderla un attimo in prestito? Devo farci un paio di cose. Come no? Oh, ti ho detto che devo prenderla in prestito. Se tu non esisti, io non sono un ladro. Perfetto, guardate quanto è bella sta macchina. Un po' ambigua. Non ho capito se è un camioncino dei gelati fuso ad una macchina da rally. Sono leggermente confuso. Lia, prova a metterti in questa. Scusa, scusa, scusa. Stavi picconando la porta, ma che problemi hai? No, stavo entrando in casa con la mia chiave. Ah, sì, sì, sì. Prendendola a sprangate. Vieni, vedi se in questa ti fa mettere. Va bene, la chiave è inglese. No, Lia. No, no, ho sbagliato tasto. Lia, ho notato che hai sbagliato tasto. Provati a metterla nella macchina prima che impazzisco. Oh, finalmente abbiamo trovato una macchina che funziona. Adesso ti porto a fare un giro turistico. Questo non è un camioncino dei gelati, o meglio. È palesemente un camioncino dei gelati. Penso non sia un camioncino dei gelati. Non ho mai visto una macchina del genere. Sono confuso quanto a te. No, 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 non so guidare. Ti porto un attimo la discarica. Perché è il luogo dove appartieni. Giusto? No, non credo. Io credo proprio di sì. Casa mia era di là. Ci stavo entrando con la posita chiave. No, 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 casa tua è la discarica. Adesso ti porto e ti faccio vedere. Come è un muro? Cosa, lo so che è un muro. L'ho visto, anzi, non l'ho visto. Di solito si svolta quando si trova un muro. Io no. Io tiro dritto e mi vado a schiantare contro. Giustamente. Piano. Adesso ti faccio provare una cosa molto divertente. Scendi dalla macchina, veloce. Veloce, veloce. Scendi dalla macchina. Veloce è relativo. Veloce è relativo, un attimo. Ok, buttati qui giù e vai a recuperare la chiave che sta sotto questa melma, per favore. Vado. Sì, sì, vai, vai. Sì, devi saltare. Bravissima. Adesso lì sotto dovrebbe esserci una chiave. Vedo verde. Eh, lo so che vedi verde. La trovi la chiave? L'hai vista? No, non c'è nessuna chiave. Mi sa che sei morta. Mi dispiace, non sapevo fosse radioattivo. Ah, eccoti. Ti avevo visto per un secondo. Lia, ti vedo. Eccoti lì su. Ma secondo te riesco a prenderti col bazooka di Shrek? Shrek, vai Shrek. Non credo, non è la vola. Ma dove vai? Sono qua su io. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sono qua su. Ti prendo al volo, vieni, vieni. Brava, imparata a volare. Vai, anche Shrek deve imparare a volare. Ma che sei il goblin di Spider-Man che mi lanci le bombe. Vai Shrek. No, no, brava, brava. Eh, sono bravissima, sono bravissima. No. Sì, al volo. Adesso ti porterò ad esplorare un luogo molto, molto particolare dove di solito ci sono delle bestie sataniche. O almeno a me e Cat spawnano sempre qui. Quindi mi raccomando, occhi aperti, prendi un'arma e stai attenta, ok? Sono prontissima. Seguimi, seguimi. Sono pazzo. Ah, devo dire che sei brava. Sì, sì, ma non mi correre in faccia, mi fai caccare addosso. Prendi la torcia. Stavo provando. Prendi la torcia che è un po' buio. Quale torcia? F per prendere la torcia. Eccola qua. F di torchlight. Ce l'abbiamo. Sei sicura che ce l'hai? Non ti vedo con la torcia. Ma sei sicura che è accesa la tua torcia? Ah, io sto illuminando. No, Lia. Tipo qua c'è una caverna. Non lo stai illuminando. Ti pare una caverna? Ma ti sembra una caverna? Sì, questa è la caverna. C'è scritto. C'è scritto caverna. Sì, sì, sì. Entra, entra, che là c'è un'amica che conosci molto bene. No, no, no. Ci fai te da Opila. Guarda quant'è carina. Vieni a fare amicizia con Opila. Ma cos'è Gigachad Opila? Oh, da sparare alla mia amica Opila. Su. Vieni a fare amicizia con lei. Ma non muore. Ma è Gigachad Opila. È certo che è Gigachad Opila. Ma che muscoli. Intanto che fai amicizia, io vado a sistemare una cosa. Ti spawno qualcuno che ti aiuterà a combatterla. Aspettami qui. Ovviamente, ragazzi, mi sono mutato per dirvi che adesso prenderò il controllo di questa Opila Gigachad. Ma dov'è Lia? Guardate, si è totalmente cacata addosso. E la prenderò a pugni. Sei pronta Opila? Uniamo le nostre forze e distruggiamola. Anche se in questo momento credo che il suo cervello sia già distrutto. Poverina. Lia, ecco qua chi ti aiuterà nella tua fantastica missione che si è bloccata. Vieni qua. Eccolo qua. Ecco a te. Lui è il tuo aiutante. Vai, presentati pure. Non potevi darmi un uomo migliore. Mi sembra un po'... Non lo so. Come ti permette a parlare così di Marcello? Guarda quanto è bello. Ma lo vedi quanto è grossa lei? Eh, sì, ma non fa niente. Nella botte piccola c'è il vino buono. Eh, è un detto famoso. Cosa dovrebbe fare? Sì, ma non continuare a spararle. Eh, non lo so. Parlaci. Chiedigli se ti può dare una mano. Senti coso, puoi per favore uccidere questo qua? No, no, ma non mi guarda neanche. Guardami. Ciao. È sparito, è visto. Siete rimasti tu e Opila. Però adesso sono io. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Uga, uga. Uga, uga. Uga. Ti spacco di bocca. Ti prendo a calci. Vieni. Scendi giù. Aiuto, aiuto. Sì, però non posso salire. Non ce la faccio. Non riesco a prenderti a pugni. Va bene, va bene. A magli estremi. Non puoi avermi. Eh, ce l'è arrivato. Piano, piano. Piano, piano posso farci. Mi sa che non ci passi qui. Sono sincera. Aiuto, ragazzi. Sono diventato un fidget spin. Mi sono incastrato. Cosa sta succedendo? È tutto pagato. Pensi davvero di avermi fregato? Tu non hai ancora visto niente? Vengo dietro di te. Così, spawno il creatore degli schibi di toilet. L'ho in possesso. Vieni qua. Vieni qua. Adesso sono io. Ma che sono il cameriere? Cameriere! Ti prendo a pugni. Mi può dare, per favore? Sì, tutti vi ammazzo. Pia, Lia. Così che si trattano i corrisi? Non mi interessa io. Sono il creatore degli schibi di toilet. Comunque sono fighissimo, ma corro in una maniera veramente ambigua. Aiuto. Lia, guarda come corro. No, no, ci sono. Sono morta. Uga, 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 buga. Oh, mamma mia, ma quanto è velo... Oh, mamma mia, che fegata! No, no, sono caduto nella melma. Aiuto. Lia, mi serve una manina. No, 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 no. Non credo che te la darò. Schiantare. Eccomi qua, sto correndo verso di te. Ti distruggo, ti disintegro. Ma tu non sai dove sono io? Ti ho visto partire. Ah, è vero. Io non so dove sei tu. Eccoti. Ti prendo a mezz'aria. No, 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 lì, eh. A mezz'aria ti prendo, guarda. Sì, calmo, cameriere. Guarda, aspetta, sì, ma non riesco a prenderti lì. Un secondo, come faccio? Eh, sono troppo forte. Sì, ma infatti sì. Non mi puoi prendere. Troppo forte, vai. Pow, eccomi qua. Ma no, non ti vedo più, dove vai? Vuoi fare un 1v1? Sono qui, pronto a sconfiggerti. Ma non posso camminare! Eh sì, perché ti sei buggata con il volo nella strada, imbecille. Imbacille. Vieni qua. Oh, posso scappare. Vieni qua. Ma dove sei? No, 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 sono finita nel cielo. Puoi provare a fare una gara? Facciamo una gara? Facciamo una gara? No, te ne devi andare dall'asfalto. Ok, verso quella direzione. Verso quella direzione. Non provare mai più a toccarmi. Ti spacco. No, stavo facendo un test. Era un portale per la scienza. Per la scienza. 3, 2, 1, vai. Ti do un po' di vantaggio. Corri. Corri. Ti ho detto che ti do il vantaggio. Sto correndo. Come queste sono voci. No, 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 no. No, no, no. Sì, ho vinto. Ho vinto io. Ma non si fa così. Ma certo che si fa così. Io ti atterro in testa. Non ti atterro in testa. Non ti atterro in testa. Io sono dall'altra parte. Non te lo volevo dire. Dammi un secondo. Sono sempre dall'altra parte. Sono finito. Eh, sì, sì. Io sono sul ponte, Lia. Sul ponte. È un secondo solo che sto arrivando. Sono pazza. Sono pazza. No, sei scomparsa. Lia? Lia? Vieni? Sì, cos'è? Questa praticamente è un prototipo di bomba atomica. Sì, è bomba. Pikachu. Sembrava un po' che... Pikachu, ma fatto di bombe. No, no. Lia, questo è un prototipo. Ma quindi se gli sparo esplode? Sì, sì. Non funziona! Sì, ma mi dovevi far dire che un prototipo e io ti dicevo no, ma in realtà non esplode. È successo una cosa molto brutta. Sono arrosto. Te l'avrei dovuto far esplodere in faccia mentre scappavo. Ogni volta devi toccare e mettere mano, ti odio. Mi sembra ancora abbastanza confusa dalla bomba atomica. Io non ho idea di cosa stia facendo. Ha preso la gravity gun, sta provando nuove armi, ma non ha capito che per farla funzionare servono degli oggetti. Ma vabbè, dettagli. Adesso noi ci trasformeremo in questi bellissimi personaggi di Five Nights at Freddy's e la faremo cacare sotto. Perché possono scomparire. Guardate qua, adesso ci sono. E adesso non ci sono. No, impazzirà totalmente. Ma prima diventeremo Plashtrap. Oh sì. Eccomi qua, eccomi qua. Lui invece non diventa invisibile. Credo non mi abbia visto perché è totalmente rimbecillita. Lia, io sto arrivando. Tu dove sei esattamente? Io sono in piazzetta. A fare che? Non lo so. Cos'è? Ma sono un allarme, non ti ho preso. Scusa. No, no, figurati, figurati, figurati. Non ti preoccupare. Allora, io sto un attimo sistemando il carro armato. Non ci stai ancora mimetizzato con l'erba, vero? Il carro armato. No, io mimetizzato come erba. Non ci stai mimetizzato con l'erba. Assolutamente no, te lo giuro. Non mi sono mimetizzato come l'erba. Dove sei? Non sono diventato un coniglio. No, cos'è sto coso? Dai, roghe. Se mi fai un jumpscare ti tiro un pugno che diventi un orso. No, ma che orso? Ma sono già un orso o un coniglio? No, no, sei un coniglio, sei un coniglio. Lasciami stare. Mi dispiace, mi dispiace. Non mi piacciono i conigli? Ti avevo detto che stavo un attimo sistemando il carro armato. Perché non ci hai creduto? Perché non era armato. Era solo un carro, l'ho visto. Te lo meriti, te lo meriti. Ma di cosa sono morta? Di ansia. No, di infarto. Io sento il tuo profumo. Sento dei passi. Sento dei passi, ma non vedo niente. Ciao. Cos'è sto coso? La capita è l'uncino. Vieni, vieni. Ma cos'è? Ma che c'è l'uncino? È certo che c'è l'uncino. Sì, sì, no, ma è un po' più veloce. Sono diverso, ciao. No, 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 no. No, 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 no. Vuoi farci amicizia, vieni? No, 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 no. Anche Cica vuole fare amicizia con te. Io no, io no, vai via, vai via, vai via. Questo non lo puoi prendere, mi dispiace. No, lo posso prendere da me? No, non lo puoi prendere. Io adesso me ne vado da questa parte e tu non saprai mai che io me ne sono andato. Direi di usare questo. Sì, perché non senti i passi. Perché si sentono i passi quando sei vicino Ti sentirei se tu fossi vicino No no ma infatti io non sono vicino Sono molto molto lontano Eh lo sentirei se fossi vicino Perché non ti vedo ma sento i passi Eh io sono verso la discarica più o meno Tu vai verso la discarica se vuoi Che è successo? Sono entrata dentro il pavimento No 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 perché si è entrato dentro il pavimento? Eccomi qua Cos'è sto qua? Perché c'è Winnie the Pooh? Ma che Winnie the Pooh? Ma dove sei andata? Sì è la versione creepy di Winnie the Pooh Vieni qua Ah vuoi scappare? Oh è stato tipo firmo Vuoi provare una cosa molto divertente Vola tipo vicino a questo palazzo qui altissimo Vola vai Sto avvolando l'altra parte Vola vola verso il palazzo Vola 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 Sì non troppo in alto intendo Eh allora mi dici vola vola Eh un attimo È solo che se mi alzo è un po' un problema Mi copre la visuale Ok no no non così Vai un po' più indietro Vai indietro ma non in alto Vado indietro Vado indietro Vado indietro Ok resta lì resta lì resta lì Guarda tecnicamente io posso Ah long range kill Ti ho ammazzato da 66 metri Mi sembra un po' troppo forte questa cosa Non lo so eh È leggermente troppo forte Non è legit Non è legit Ma che legit Ma che legit E basta sparire E invece no Io sparisco fin quando mi pare Che c'ho le ansie No riesco ad ammazzarti Eh io sono immortale Sono immortale Mi chiamavano l'immortale L'immortale Perché ti chiami L'immortale Esatto Non riesco ad ucciderti Esattamente perché hai spawnato un cono stradale Mi piacciono i coni Mi piacciono i coni Adesso mi serve che tu mi faccia un favore Vedi questo palazzo marrone Esattamente questo davanti a noi Sono tutti i marroni Finestra nella quale si può entrare No lì a questo qua Vedi c'è una finestra un po' più scura Nella quale tu puoi entrare Mi serve che vai a prendere un attimo l'arma che ho lasciato dentro Puoi? Volando per favore Certo io sono divinità suprema Grazie grazie Vai nella finestra Perfetto Ma qui c'è un po' di Tutto bene? Morte L'hai trovato? Oh sto continuando ad esplodere Che succede? Ho spawnato giusto un paio di bombe atomiche Ops Al prossimo video